Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Domani ha inizio la novena dell'Immacolata, probabilmente la festa mariana più sentita dal popolo di Dio. Propongo da subito che in ciascuno di questi nove giorni della novena mettiamo, possibilmente al mattino, ma anche durante la giornata un fiore, ogni giorno diverso, dinanzi all'immagine o statuetta della Santa Vergine che teniamo in casa. Questo dogma dell'Immacolata, solennemente proclamato da Pio IX, il beato Papa Pio IX, nel 1854 e confermato dall'apparizione della Madonna Lourdes, Gesù l'Immaculée Concession, è quello che insieme al dogma dell'Assunta del 1950 esprime in modo profondamente chiaro la venerazione cattolica nei confronti della Beata Vergine Maria. È il punto di massima espansione cattolica nei confronti della Beata Vergine Maria da parte della Chiesa Cattolica. A partire però proprio dagli anni Sessanta, attraverso una manipolazione coatta del Concilio Vaticano II, soprattutto nella stagione post-conciliare, anni Settanta e fino ai primi anni 2000, si è sempre più sviluppato un processo all'inverso, caratterizzato prima dall'imbarazzo, infine dal fastidio nei confronti del culto mariano cattolico. Negli ultimi cinque anni, la spinta antimariana, che pone in alleanza il neomodernismo teologico con l'entusiasmo neoluterano, è stata addirittura canonizzata da parte dell'attuale governo ecclesiale. Ancora nei primi anni Ottanta, un giovane cardinale Ratzinger poteva parlare in modo preoccupato di un collasso cattolico della devozione mariana. Collasso significa uno che casca a terra. Veramente la devozione mariana negli anni Settanta, ieri piccolino ma mi hanno raccontato alcuni confratelli più avanti negli anni, la devozione mariana negli anni Settanta ha subito una iconoclastia senza precedenti. Ciò che ancora circolava soltanto nelle facoltà teologiche e purtroppo anche nei seminari, oggi invece viene predicato e annunciato in tutta la Chiesa. Maria è di intralcio, offusca il primato di Cristo, costituisce il patrimonio di devozione che stranamente disturba il comando progressista, proprio quello che stranamente esalta il popolo e parla di odor di pecore. Soprattutto impedisce la cosiddetta frenesia ecubenista, tale per cui Maria non è per tutti noi, non è più la madre di Dio, la nostra regina, la nostra avvocata. Chi di noi non ha imparato da piccolo il salveregina? O clemente, o pia, o nostra dolce vergine Maria? E anche viene chiamata avvocata. Ecco, ma al più rimane la donna dei Vangeli, nostra sorella nella fede. Io credo che non sia un caso, come ho potuto purtroppo verificare di persona, che in certe parrocchie del nord Italia e purtroppo ormai anche dalle nostre parti qui in Sicilia, nel sud, pastoralmente gestite in un modo che ormai è chiaramente luterano, vengano denunciati come reato, come condanna i pellegrinaggi a Meggiugorie, tutt'al più considerati come inevitabili quelli a Lourdes e a Fatima, e invece vengano entusiasticamente proposti itinerari di fede chiamati Luterveg, la via di Lutero, cioè per i non addetti ai lavori, i percorsi nei luoghi dove è vissuto Martì Lutero. Capite? Se si vuole si può persino organizzare un pellegrinaggio sulle orme di Lutero. Veramente questa è roba che uno si domanda, ma da dove viene fuori? Lutero è quello che, per dirne una, ha avuto grande fastidio e poi odio nei confronti del Rosario. Nel 1528 scriveva, e sembra di udire purtroppo tanti esponenti della falsa Chiesa. Non maior blasfemia facta Marie, quamilli rosaria istituerunt. E cioè, questo è Lutero, la peggior bestemmia a Maria è quella di coloro che inventarono il Rosario. Hai capito? E ci sono cattolici che fanno la via di Lutero. Come ha dimostrato Vittorio Messori, si tratta di un ribaltamento clamoroso, inaccettabile. Questo è il punto, come fra un momento vi dirò. È inutile che se poi c'è chi non ci sta a questo gioco, a questo ribaltamento, debba vedersi costretto a sanzioni canoniche, condanne, emarginazioni e incursioni delle iene. Non è così che vinceranno la partita, anche perché non la vincono dall'altra parte. Quel che per noi è preghiera, preghiera cattolica per antonomasia, per Lutero, è orribile bestemmia. Il Rosario è realmente come il sottofondo musicale, la colonna sonora, ho detto altre volte del cattolicesimo, amato dai santi, pregato dal popolo, adoperato come arma all'epanto, incoraggiato dai pastori, promosso dai pontefici. Il Rosario, celebrazione semplice e potente del legame della Chiesa cattolica con la Santa Vergine. Il Monfort, San Luigi Maria, poteva scrivere, e sembra che egli si rivolga oggi non più semplicemente ai protestanti, ma purtroppo ai gerarchi della falsa Chiesa, poteva scrivere, cito dal Trattato della vera devozione, si è sempre visto che coloro che portano il segno della riprovazione, come tutti gli eretici, gli empi, gli orgogliosi e i mondani odiano e disprezzano la corona del Rosario. Gli eretici imparano e recitano tutto, ma non il Rosario, è il loro spauracchio. Mi piace questa espressione che nel francese è più incisiva, è il loro spauracchio. Porterebbero su di sé un serpente piuttosto che una corona. Quanto è vero questo in tutti i cosiddetti cattolici adulti, questi cattolici neoluterani, radical progressisti che riempiono ormai le parrocchie, non parlate loro del Rosario, preferirebbero tenere in mano un serpente piuttosto che la corona. E dice ancora il Monforte, quindi è roba che non ci si inventa oggi. Gli orgogliosi, anche sebbene cattolici, considerano il Rosario come devozione da donnicciola, buona sola per gli ignoranti. Al contrario, si vede per esperienza che quelli che hanno grandi segni di predestinazione amano, gustano e recitano questa preghiera. Altre volte ho avuto modo di dire ai miei figli spirituali che, siccome si parla sempre più spesso di avvento dell'anticristo, vorrei dire che non sono l'unico matto a dirlo, sono solo un povero prete, ma nei giorni scorsi il patriarca di Mosca, Kirill, ha detto che solo chi ha gli occhi chiusi non si accorge che siamo entrati nei tempi dell'Apocalisse. Ecco, e quando si parla dell'anticristo certamente vengono in mente chissà quali pensieri, ma io ho più volte detto che nulla potrà l'anticristo pur col marchio della bestia di fronte a coloro che avranno il rosario tra le mani. San Giovanni Paolo II ha dedicato una lettera apostolica al rosario. Ancora prima Paolo VI, il beato Paolo VI, lo ha legittimato nella Marialis Cultus e poi nelle apparizioni riconosciute dalla Chiesa la Santa Vergine ha incoraggiato la recita della corona a Fatima, addirittura vi ha legato le sorti del mondo. Fon Balthasar l'ha definita la salvezza del Cattolicesimo Romano. I Santi più recenti, per esempio Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio, ne hanno fatto uno scudo personale. Suor Lucia di Fatima, e questo però che mi interessa più di dire questa sera, ha avuto rivelato negli anni Sessanta da parte della Santa Vergine che proprio agli esordi dell'attacco finale di Satana alla Chiesa Dio accordava un nuovo potere al rosario, potere soprannaturale, proprio quello che oggi è praticamente snobbato nelle parrocchie dai nostri confratelli sacerdoti che sposano la deriva neoluterana con grave danno pastorale e spirituale. E qui vorrei dire che uno dei principali motivi della scarsità di vocazioni è che non si prega più il rosario. Fioccavano le chiamate al sacerdosio e alla vita consacrata quando in famiglia si pregava tutti insieme la corona. Non vorrei, ma temo che però possa essere così visto come è andato il sinodo sulla famiglia, che il sinodo annunciato sull'Amazzonia sia un pretesto per ulteriori aperture come le donne di Aconesse o i preti sposati. Qua nessuno è fesso, dicono a Napoli, perché sia chiaro, nessuno è fesso. Le operazioni portate avanti pensando che nessuno capisca sono destinate ai ricordi. L'emergenza vocazionale deve muoversi in altre direzioni, a partire prima di tutto da una nuova promozione del santo rosario. Sor Lucia, infatti, ha avuto modo di dire che nei primi anni sessanta, vi ricordate, rivoluzione sessuale, movimento sessantottino, smottamento post conciliare, ovunque, contestazione e rivoluzione, Satana, diceva Sor Lucia, stava, naturalmente parlava a nome della Madonna, quella lì, come ho dimostrato nel mio libro, i tempi di Maria, Sor Lucia è stata la vera profetessa del Novecento, non ho dubbi su questo, perché la Madonna ha continuato a parlarle fino alla fine dei suoi giorni. Ecco, diceva Sor Lucia, nei primi anni sessanta, Satana stava per attaccare i sacerdoti, affinché sposando il pensiero del mondo e secolarizzandosi, ne sarebbe provenuto un loro raffreddamento spirituale con grave danno delle anime. La Santa Vergine, perciò, incoraggiava attraverso Sor Lucia a riscoprire la potenza del rosario per salvare la Chiesa. Coincidenza stupefacente con Meggiugorie, dove la Madonna, la Regina della Pace, ha detto che il rosario risolve tutti i problemi e salva la Chiesa Cattolica. Ancora Sor Lucia diceva, evidentemente sotto suggerimento celeste, non c'è problema internazionale, nazionale, familiare e personale che non possa essere risolto con il Santo Rosario. Cosa ha fatto la falsa Chiesa ai nostri giorni? Disprezzo e fastidio da una parte è entusiasmo ed euforia per Lutero. Laddove, però occorre ricordarlo, chi conosce la storia della Chiesa lo sa, laddove il luteranesimo si è impiantato, vi è corrisposta una persecuzione nei confronti del culto mariano fino alla cancellazione dei santuari e delle Chiese a lei dedicati. È da allora che il cristianesimo, proprio nelle terre luterane, non fa che agonizzare. Oggi all'umicino, moribondo, a causa, peraltro, di quell'apertura al mondo, di quell'apertura alle novità pastorali che, con figure di rilievo anche nella Chiesa Cattolica oggi, come il cardinale Walter Casper, si tenta di far filtrare nella Chiesa Cattolica. L'esempio del beato cardinale John Henry Newman è quanto mai eloquente. Anglicano provò per molto tempo una forma di inquietudine, fin tanto che non si aprì al culto mariano, scoprì la presenza della Santa Vergine e divenne cattolico. Insomma, l'antimarianismo del dopoconcilio Vaticano II ha raggiunto livelli ormai di guardia e questo proprio mentre nel frattempo paradossalmente si sono moltiplicate le apparizioni della Santa Vergine nel mondo, alcune delle quali decisive come Fatima, molte anche in Italia, tutte boicottate, povera Italia, povera Italia, da San Damiano Piacentino a Montichiari, da Schio a Belpasso, da Civitavecchia eccetera eccetera, è proprio un boicottaggio clamoroso, clamoroso. Il teologo tedesco Ziegenhaus ha avuto il merito di rendere noto un volantino fatto circolare da diversi padri conciliari nel quale si esprimevano un paio di preoccupazioni a riguardo del culto mariano che purtroppo con il tempo fatte negli anni Sessanta si sono rivelate profetiche. Lo riporto. Primo, la dottrina tradizionale sulla Madonna anni Sessanta è in grande pericolo se consideriamo la Vergine Maria uguale a noi. Questo è un gruppo di teologi che ha scritto questo, ma naturalmente i teologi che restano cattolici sono bacchettoni. Secondo, quanto più vengono minimizzati i privilegi e i compiti di Maria, tanto più si riduce la venerazione nei suoi confronti. La disaffezione del popolo di Dio al Santo Rosario è uno di questi drammatici segni. Il sospetto interno alla Chiesa nei confronti del culto mariano era tale da condurre. Il noto teologo protestante Karl Barth, lui ha scritto la Dommatica Ecclesiale, un'opera scritta da un protestante ma molto significativa, lo stesso teologo Karl Barth che negli anni Cinquanta definiva la mariologia cattolica il tumore della teologia cattolica, ecco, lui si dichiarava stupito del fatto che nelle trasmissioni radiofoniche vaticane, a partire dagli anni Sessanta e poi negli anni Settanta, da lui assiduamente ascoltate, non si trovava più una predica su Maria. Lo stesso Karl Barth, protestante all'amico cattolico von Balthasar, poteva scrivere compiaciuto ma stupito, ne fate dunque a meno anche voi. A poco poteva servire il contributo operato in collaborazione che nel frattempo Hans Urs von Balthasar e Josef Ratzinger, lo ricordo di questa collaborazione per me preziosa, perché io subisco un boicottaggio anche dagli ambienti tradizionalisti con tanto di spade, chi può capisca, perché cito von Balthasar, che vogliono far passare per eretico. In realtà non era affatto eretico von Balthasar ed è stato grande amico di Ratzinger, oggi Benedetto XVI, che gli ha pure celebrato i funerali. Realizzavano insieme, in difesa del patrimonio mariano cattolico, una vera e propria opera di difesa, appunto, soprattutto per il legame con i padri della Chiesa. E qui, nel terzo passaggio, vorrei riferirmi particolarmente a un esponente di rilievo del nuovo pensiero cattolico, che tutto ha tranne che quello della chiarezza, Enzo Bianchi. Le cui esternazioni rare su Maria, giacché per il resto clamorosamente ne tace, procurano imbarazzo se non addirittura scandalo. Il pamflet è persino surreale, cari amici, meno male che molti di voi non ne capite nulla perché non seguite queste cose qui. Vorrei riferirmi soltanto a due considerazioni fatte da Enzo Bianchi, per il quale prego. Il primo riguarda Fatima. Ora, uno può anche dire che il sole non c'è, va bene, perché ci sono le nuvole che lo coprono, però chi dovesse dire che il sole non c'è è ridicolo, perché tutti sanno che il sole c'è. Enzo Bianchi ha pubblicamente affermato che le apparizioni di Fatima non sono vere. Peccato che milioni di pellegrini vi si rechino ogni anno e che tutti i pontefici, tutti Enzo Bianchi, a partire da Paolo VI vi si siano recati. Secondo me lui soffre forse di amnesia. Giovanni Paolo II è stato salvato dalla Madonna di Fatima nell'attentato di Piazza San Pietro accaduto proprio il 13 maggio. Il messaggio mariano di Fatima si è realizzato alla lettera. Per lui, per Enzo Bianchi, tutto questo non esiste. Ora, se a sostenere, come purtroppo succede, che Fatima non è importante, non è vera, fosse un parroco della più sperduta periferia, il danno sarebbe irrilevante. Qui dobbiamo anche aggiungere, perché anche io mi intendo un pochino di teologia, poco poco, che non stiamo discutendo sul fatto che uno debba crederci o meno, perché questo, come sappiamo, le rivelazioni private non sono oggetto di fede, perciò uno si può anche esimere dal crederci. Un'altra cosa è invece dire che non sono vere. Per lui tutto questo non esiste. Ma siccome quando entri in una libreria cattolica, o che si chiami tale, i libri di Enzo Bianchi si trovano ovunque, siccome è divenuto realmente uno dei leaders della neo-chiesa, per questo, proprio perché ha comunque avuto il merito di riproporre i padri della chiesa, è legittimo domandarsi perché mai Fatima non è vera per lui. Fai delle ricerche e scopri che Vittorio Messori ha avuto il merito di rivelare che Enzo Bianchi ritiene Fatima non vera perché la Madonna non ha parlato della Shoah, dell'olocausto degli ebrei. Così Enzo Bianchi arriva ad affermare a Fatima si è manifestato, sono parole sue, di uno dei più ascoltati leaders oggi della neo-chiesa, a Fatima si è manifestato un dio razzista, un dio del razzismo cattolico che si interessa solo dei suoi, della sua razza cattolica. Non c'è da rimanere sorpresi? Io penso di sì. Allora io vorrei proporre alla Santa Vergine, se mi sta ascoltando, che d'ora innanzi, prima di apparire e di parlare, si faccia dare da Enzo Bianchi la traccia di ciò che deve dire. Enzo Bianchi è consultore del Pontificio Consiglio dei Laici, credo, in quanto tale disprezza il messaggio di Fatima e contesta anche del secondo punto la devozione mariana. Ecco l'altro aspetto. Ha dichiarato che Maria, cito, non può essere il riferimento per la promozione della donna nella chiesa. L'idea, dice ancora lui, insinuata per moda che la Madonna sia più importante di San Pietro è un'idea insipiente, come dire che la ruota del carro è più importante del volano. Qui forse si entra nel campo specifico della teologia, forse per gli addetti ai lavori. Ad ogni modo vorrei dire, Enzo Bianchi non sa che nei padri della chiesa Maria non è affatto la ruota del carro, che non è una moda come lui vuol lasciare intendere. A me sembra che talvolta questi mandano proprio messaggi di carattere populista. Non sa lui bene che i padri della chiesa non hanno affatto detto che Maria è la ruota del carro, anzi, Maria è stata definita forma ecclesie, che pertanto tutti i credenti trovano in Maria la forma cattolica, prima ancora e più che in Pietro. Von Balthasar ha scritto pagine splendide su questo aspetto. Maria non è marginale, quasi come se relegata ai Vangeli dove parla poco in modo sobrio non fosse più per nulla necessaria all'attualità cristiana. E infatti le imprecisioni e le inesattezze formulate da Enzo Bianchi, che purtroppo è la punta d'iceberg di un pensiero non più cattolico ma promozionale nell'editoria cattolica sono vistose. Anzitutto l'idea che la promozione della donna nella chiesa debba passare dal ministero ordinato. E poi ancora il discredito per il cosiddetto principio mariano, che invece come ha dimostrato Von Balthasar è coestensivo alla chiesa rispetto a quello petrino, un tema di matrice patristica che lui liquida come idea insipiente. Se Maria non è più il modello cui devono guardare le donne credenti, domandiamo a Bianchi chi debba essere il modello sostitutivo. È una domanda legittima. Ruota del carro, dice lui. Dunque una contraddizione dello stesso Magnificat, dove la Vergine profetizza che sarebbe stata chiamata beata da tutte le generazioni. Quando leggi che per Enzo Bianchi la Santa Vergine è la ruota del carro e pensi per esempio al titolo dei padri della chiesa Teotokos, Madre di Dio, o a quello di Pio IX, Immacolata Concezione, ti rendi conto che il blackout dottrinale è paurosamente vistoso. L'idea che Maria sia una ruota del carro fa venire in mente le parole di fuoco del grande apostolo mariano Luigi Grigno Maria da Monfort, che nel trattato della vera devozione a Maria intorno a cui si è formato uno stuolo di autentici testimoni cattolici tra cui spicca Uoitiwa, a riguardo dell'eresia diceva, il segno più infallibile e più indubitabile per distinguere un eretico, un uomo di cattiva dottrina da un predestinato, è che l'eretico e il reprobo non hanno che disprezzo o indifferenza per la Santissima Vergine, cercando con le loro parole ed esempi di sminuirne il culto e l'amore apertamente o di nascosto, talvolta sotto speciosi pretesti. Noi domani iniziamo la novena dell'Immacolata e mentre io rilancio di nuovo l'iniziativa che può sembrare ad un certo punto persino stravagante di un confronto pubblico con qualcuno di questi esponenti su queste tematiche, ecco, nello stesso tempo vorrei lanciare un messaggio spirituale che si intitola Adorazione. La Madonna è stata madre di Gesù. Vorrei dire concretamente, se si legge anche per esempio l'opera di Maria Valtorta, che la Santa Vergine realmente lo ha accudito come una mamma fa col figlio, lo ha allevato, lo ha allattato, lo ha pulito tutte le volte che era necessario, lo ha fatto crescere con un amore e tuttavia non si è abituata a questo bambino che era Dio, ma più gli era familiare e più lo adorava. C'è un passaggio nel poema dell'uomo Dio, che oggi si chiama Il Vangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta nel primo volume, che mi ha sempre molto colpito. Si racconta che San Giuseppe, dopo aver avuto la visione, il sogno dell'angelo che lo invita a scappare dalla Giudea per rifugiarsi in Egitto perché Erode vuole uccidere il bambino e delicatamente, dice Maria Valtorta, va a bussare alla porta dove la Madonna stava col bambino Gesù. Ebbene, in piena notte lui bussa e la Madonna gli dice anche di entrare e trova la Santa Vergine che mentre il bambino si è appena addormentato nella culla, se ne sta lei la prima adoratrice del verbo incarnato in adorazione. Sempre mi ha colpito che Maria Diagreda, che ha scritto La mistica città di Dio, Un'altra vita della Madonna, dice che la Madonna si prostrava continuamente dinanzi a Gesù. Ecco, fratelli e sorelle, oichieiosis si dice in greco, significa familiarità, adattamento, affinità. I padri della Chiesa, soprattutto San Basilio Magno, dicevano che noi abbiamo una familiarità con Dio attraverso il dono dello Spirito Santo, che è intimità tra padre e figlio e che rende noi partecipi di tale intimità divina, oichieiosis. Per noi cattolici questa intimità si mostra nell'Eucaristia, soprattutto quando andiamo a fare la comunione. Ma, attenzione, che l'idea teologica, cattolica, della prossimità di Dio a noi e quindi della familiarità nulla toglie, nulla detrae, anzi supporta e sostiene il gesto continuamente stupito dell'adorazione. Non ci siamo ancora abituati alla grandezza della Santa Messa. Io quando celebro l'Eucaristia, ormai da solo, perché sono stato rimosso dalla parrocchia e celebro il vetusordo, mi accorgo, amici cari, che Dio si fa presente in mezzo a noi nei segni del pane e del vino e quindi in una maniera semplice. Ma proprio per questo Santa Madre Chiesa educa all'adorazione, al mettersi in ginocchio. Carissimi, prima di concludere vorrei aggiungere un'ultima considerazione. Radio Domina nostra è ormai molto seguita. Presto faremo un blog per trasportare tutto nel blog. Ricevo tante migliaia e migliaia di attestazioni di gratitudine in Italia e ormai anche all'estero. Domenica scorsa ho saputo che alcuni video sono stati tradotti in inglese e che grazie a questo un gruppo di preti americani di Los Angeles ha voluto esprimere stima e vicinanza. Anche in Canada e in India alcuni siti cattolici hanno mandato in onda dei video grati per il coraggio mostrato. Ieri, al termine della Catechesi sulla Medaglia Miracolosa, ho ricevuto tanti messaggi, uno dei quali da parte di un mio ex parrocchiano, che diceva così Carissimo padre Alessandro, se qualche fedele desidera vedere la Medaglia Miracolosa può chiederla a me, perché dovrò essere a Parigi a breve e mi recherò come sempre a Riu Dubac, mi faccia sapere. Sono autentici incoraggiamenti ad andare avanti. Nei commenti sul Radio Domina un anziano signore esprime gratitudine perché dice ho 80 anni e non avrei mai creduto di tornare ad ascoltare prediche cattoliche. Ma tutto questo ha un prezzo molto alto. La settimana scorsa Rai 1, televisione di Stato, ha mandato in onda una sceneggiata vergognosa, dove pur sapendo di dire il falso, ha raggiunto l'obiettivo di denigrarmi e infangarmi moralmente a livello nazionale. In nove mesi di silenzio obbediente, per ben due volte le iene, con manove prive di ogni minimo sussulto umano, con una cattiveria analoga a quella del diavolo, hanno fatto incursione nella mia sfera personale, con telecamere nascoste, con servizi montati, con una giovane giornalista che è venuta a bussare alla porta di casa mia tentando di entrare perché, diceva lei, che Dio la perdoni, bisognosa di sostegno spirituale, mi urlava che i genitori la perseguitavano perché voleva farsi suora dalle mie parti. Nonostante questi amici di una vaste spettacolo indecoroso, continuo a credere per fede nella dignità della persona umana, che non vive solo di denaro e potere, successo e ribalta, ma che sa ascoltare Dio e la coscienza. In questi nove mesi di isolamento il mio vescovo ciclista è stato latitante, anzi, secondo me persino compiaciuto dell'agonia mediatica, che però non ha fin qui ottenuto che l'esito opposto, perché il diavolo fa le pentole ma scorda i coperchi. Forse volevano farmi saltare i nervi, forse volevano deprimermi e abbattermi moralmente, avrebbero tanto desiderato vedere uscire una mummia, ma io ho tenuto la corona in mano ed eccomi qui. Hanno provato a isolarmi e invece il gregge si è moltiplicato in tutta Italia e rischiosamente si allarga oltre i confini nazionali. Stiano attenti a procedere a colpi di sanzioni canoniche, questi della Chiesa della Misericordia, con chi non la pensa come loro, perché c'è il sensus fidelium e perché la storia insegna che le truffe, anche quelle più bene architettate, prima o poi sono giganti con i piedi d'argilla. Al disagio diffuso non si può continuare a rispondere con un clima di terrore, con una risposta ambigua. Gesù ha detto il vostro parlare sia sì, sì, no, no, il di più viene dal diavolo, non contrafacciamo il Vangelo, non tocchiamo la parola del Signore, nessuno di noi può farlo. È questa la Chiesa della Misericordia? Che chi non sta ai diktat, che chi non sta a questo processo ambiguo di rivisitazione della dottrina cattolica deve pagarla con le scomuniche, con le sanzioni canoniche, con le sospensioni a divinis, con le violente rimozioni dalla parrocchia? Perché mandare le iene e le rai? Perché? Senza più parrocchia, sospeso a divinis in modo sostanziale ma non formale perché non hanno neanche avuto il coraggio di scriverlo, senza aiuto economico, né sostegno morale, ho fatto ricorso alla Santa Sede, presso la congregazione per il clero, dove, esponendo le diverse palesi incongruenze formali e sostanziali avanzate dal vescovo a riguardo della rimozione violenta di parroco e ancora del vieto di celebrare, confessare e predicare, ho avuto un primo riscontro positivo con una prima lettera nella quale la congregazione vaticana auspicava una riconciliazione tra le parti, che voleva dire che non tutto il torto pendeva da una sola parte, per poi invece ritrovarmi di via poco una lettera a firma del cardinale Beniamino Stella nella quale, con un diktat degno solo dei regimi, mi si faceva presente che inspiegabilmente il ricorso veniva sospeso fino all'8 dicembre e nel frattempo io avrei dovuto andare in rete per professare la mia pubblica fedeltà su Radio Domina a Papa Francesco, a nulla è valso che io abbia fatto la professione di fede scritta, dove rinnovavo l'ossepio dell'intelletto e della volontà romano pontefice che se ne approva contraria è una sola persona, a nulla l'obiezione che un ricorso non può prevedere di finire in rete, devono essere privilegiate le carte scritte in un ricorso, non i video, e poi non sono stati forse loro a vietarmi nove mesi di comparire sul web, d'improvviso mi hanno chiesto di ritornarci, ma cosa credono? L'obbedienza, lo dice la teologia, è qualcosa d'altro rispetto a un sistema di controllo dei sudditi di un regime, niente da fare, il vescovo finalmente dopo nove mesi di silenzio latitante, lui che si definisce padre di tutti, mi chiama per notificarmi in un clima di ipocrisia sfissiante che sono pronte addirittura due scomuniche, late sentenze, cioè immediate, se non facevo quanto mi chiedeva il cardinale Stella e io non l'ho fatto, non l'ho fatto i motivi li sapete molto bene e se non basta stamattina sono dovuto andare presso il comando della polizia municipale di Carini perché nel frattempo mi viene notificato l'avvio di un procedimento penale a mio carico e anche qui dovrò farmi seguire da un avvocato, finirò con il chiedere le lemosine ai cattolici rimasti tali per potermi pagare le spese legali solo perché ho chiesto che si facesse chiarezza su queste benedette aperture dottrinali. Nel frattempo la parrocchia di San Giovanni Bosco, la mia parrocchia, è stata trasformata in un circo. A nulla è servito il video fatto dalle dieci figliuole, tutte maggiorenni e capaci di intendere e di volere, dove dichiarano di essere liberi e responsabili in questa scelta. A nulla il video dei genitori e le molteplici attestazioni che denunciano il clima di falsità intorno a Dominutella, sulla RAI, in onda il processo con tanto di prete complice, mi pare che si chiami, non mi ricordo bene, Don Mauro, questo confratello, dove ne esco quale prete settario, orribile, psicolabile, plagiatore che non c'entra nulla col cristianesimo. Vi assicuro, ho letto molte volte vite di fondatori di ordini e congregazioni religiose, conosco la sana dottrina cattolica, conosco il catechismo della Chiesa cattolica e perciò è molto dura, è molto dura ed è possibile, anzi, previsto da Gesù stesso nel Vangelo, che i familiari possano opporsi a una vocazione religiosa. Gesù ha detto a un tale che gli chiedeva di seguirlo, ma prima voleva andare a seppellire il padre, che era la figura sacra nella cultura ebraica, di lasciare che i morti seppellissero i propri morti. Ma non ho mai trovato che un povero fondatore di un carisma, oltre alla gogna inflitta da una gerarchia cecata e prevenuta, debba rischiare un illecito penale per chissà quale colpa. Dunque, se un prete decide, dopo aver resistito a lungo, di cedere a un carisma, per questo deve vedere che l'arma dei carabinieri interroga ai genitori di queste povere vittime con domande che sembrano adatte a un film tragicomico, a una delle mamme il brigadere ha chiesto, ma lei è contro o a favore di Papa Bergoglio? Ditemi voi se si può arrivare a questo, povera Italia. E sebbene non si trovino elementi essenziali, sostanziali, pure nonostante i video fatti dai genitori che attestano che le figlie sono serene, vanno a casa spesso, stanno bene, ricevono il loro sostegno, deve a tutti i costi e nonostante tutto girare la notizia del prete plagiatore e fondatore di una setta. Chi è che orchestra questa macchina di fango? Chi ha così tanto potere da gestire così tanta macchinazione? Dico loro, state attenti, dice il Monfort, chi maledice un consacrato di Maria è maledetto da Dio. Allora io ho già nominato il mio avvocato, nella persona della Beata Vergine Maria, il mio avvocato è lei, e se proprio prima o poi dovessi essere non solo scomunicato, ma anche processato e condannato, ebbene la Santa Vergine Maria in una locuzione interiore mi ha detto, non temere figlio mio, dove tu cammini i tuoi vedranno solo le mie orme. Carissimi, vi do appuntamento a Verona il 6 di dicembre per la presentazione del mio libro La falsa chiesa e il suo destino. E poi siccome dovunque io mi muovo nascono sempre polemiche, vorrei precisare che la pubblicità fatta ai miei libri su Radio Domine è qualcosa di normale, come altri fanno nei loro blog, nei loro talk show, perché? Perché le librerie cattoliche non permettono di venderli, lo boicottano, quindi in qualche modo va fatto conoscere. Concludo con queste parole profetiche del vescovo Fulton Sheen negli anni 50. Ci sarà una chiesa contraffatta, la chiesa cattolica sarà una, e il falso profeta ne creerà un'altra. La falsa chiesa sarà mondana, ecumenica e globale, sarà una federazione di chiese, e le religioni formeranno un certo tipo di associazione globale, un parlamento mondiale delle chiese. Sarà svuotato di ogni contenuto divino e sarà il corpo mistico dell'anticristo. Il corpo mistico sulla terra oggi avrà il suo Giuda Iscariota e sarà il falso profeta. Satana lo assumerà tra i nostri vescovi. Ma, come ha detto la Santa Vergine a Fatima, alla fine il mio cuore immacolato triunferà. Carissimi, buona novena dell'immacolata, da domani un fiore davanti alla Madonna. Spero di poter fare qualche altra diretta in questi giorni. Il Signore vi benedica, il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo, sia lodato Gesù Cristo. Grazie.